Medicina Democratica, Enzo Ferrara, cosa ci dice su questo? Ecco, ho riattivato l'audio, quindi penso che adesso mi sentiate. Sì, Medicina Democratica cosa può aggiungere a quanto già detto da tecnici, operatori e persone che hanno una grande esperienza? Beh, proviamo a fare quello che è il nostro ruolo, ci dovrete scusare. Intanto ringrazio anch'io per l'invito e come dico ogni tanto, se non siamo riusciti a dare una mano troppo importante prima, magari possiamo fare in futuro il possibile per meritarcelo questa fiducia che avete riposto in noi. Intanto io questa sera ho sentito parlare non più di economia medica, ma di questioni legate ai temi della medicina. Si parla di una casa della salute e quindi io ci tengo al fatto che il discorso verta sulla salute, che è questione squisitamente politica. La salute dipende dalle scelte della politica, la malattia, allora no, la malattia dipende anche dalle capacità tecnologiche, dagli interventi. Io preferirei che noi rimanessimo su questa visione, cioè casa della salute per favorire, cioè come posso dire, per mantenere, anche semplicemente definirla insieme, che cos'è salute e che cosa non è salute in questo momento, e che ci si focalizzasse su questo tema qui. Abbiamo sentito degli interventi, io ripeto ho delle difficoltà perché non sono un medico, anche se in medicina democratica ce ne sono molti, abbiamo delle esperienze di base, di partecipazione e di accompagnamento, più che di intervento diretto. Partire dai bisogni però, come è stato fatto, come mi sembra che sia stato proposto da chi ha redatto quel documento, non ne ha focalizzati alcuni molto bene, la struttura sanitaria deve svolgere una funzione e la funzione deve essere identificata a seconda dei bisogni, che non ci sia un rovesciamento di queste situazioni, per cui è l'economia che definisce invece quali sono le strutture e non si parte dai bisogni. Quindi queste mi sembrano tutte cose che io in questo documento apprezzo moltissimo per come sono state messe insieme. So che l'8 aprile ci sarà una delegazione che andrà a parlare con il direttore dell'ASL, città di Torino, e io nella mia pochezza suggerisco delle cose. Io direi che dovendo parlare con un operatore, con un funzionario sanitario, gli si dica almeno che cosa non fare, cosa non fare e cosa evitare in assoluto. Abbiamo degli esempi e se ne è già parlato. Io faccio un solo esempio di cosa capita in questa regione e lo voglio correlare con quanto è stato detto all'inizio e poi anche da Elena sul fatto che ci sia la mancanza di continuità negli interventi e che molti degli interventi sono separati, cioè non ci sia questa unitarietà. Allora, la medicina democratica accompagna fin dalla istituzione della legge sull'amianto del 1992 le persone esposte all'amianto. Nel 1992, assieme alla legge, fu stabilito che gli ex esposti, cioè i lavoratori esposti, avrebbero avuto diritto a quella che era chiamata la sorveglianza sanitaria per trent'anni, in modo che queste persone che erano state gravemente esposte a un fattore patologico, ricordiamo che le malattie amianto correlate sono le principali cause di morte per malattie contratte sul lavoro, sono fra le patologie più elevate in assoluto nel totale, e poi la principale patologia mortale. Si parla di migliaia di persone che muoiono ogni anno, il Piemonte con la Lombardia fa il 50% dei morti di questo paese, il prossimo anno scadono i trent'anni, e il Piemonte non ha mai attuato la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti. E questo è successo per tutta una serie di motivazioni, credo anche per il fatto che dovendo poi andare a cercare negli archivi dell'INAIL e si sarebbero trovati anche documenti scomodi per alcune grandi aziende metalmeccaniche piemontesi. Non vado avanti, però alcuni aspetti sono stati assolutamente drammatici in questa storia, il perfezionismo, li affidiamo ai medici di famiglia o affidiamo alla sorveglianza sanitaria a dispresa? Passano gli anni, si dibatte di questo, e la sorveglianza sanitaria non si fa. Cosa succede oggi? Oggi noi a Medicina Democratica abbiamo ex esposti quasi ottantenni che ci chiedono ma come mai io che ho una patologia polmonare non sono una persona considerata vulnerabile e non ho diritto ad essere vaccinato in precedenza? La sorveglianza sanitaria in Piemonte non è stata fatta, le statistiche non ci sono, non sappiamo queste persone come è andata la loro epidemiologia e quindi per converso il serpente si morde la coda, gli abbiamo tolto la sorveglianza sanitaria e oggi gli togliamo anche questa possibilità. Voglio ricordare che nel 1992 fu Bianca Guiletti Serra la prima presentatrice della legge sulla questione dell'amianto e quindi non stiamo parlando, ragazzi, non stiamo parlando di cosette. Voi state riproponendo qui qualcosa che fa parte della storia di questo paese. Ultimi avvertimenti. Non è mai esistita un'età d'oro della salute e della sanità in questo paese, forse non è mai esistita da nessun'altra parte, quindi non guardiamo troppo al passato, come posso dire, come per carità, 1943 il rapporto Beveridge-Indieterra è un riferimento, la legge del 78, la 883 è una meraviglia, però non crediate o non crediamo che sia sempre stato facile, anzi, ci sono tutta una serie di nemici fortissimi contro questa visione del modello politico della medicina. Abbiamo il secondo pilastro, il terzo pilastro, che torneranno fortissimi, che saranno altri nemici che si andranno a proporre oltre tutte le cose che hanno già detto per esempio adesso da poco Eleonora. Facciamo sempre qui un altro esempio, permettetemi una piccola divagazione, altra persona importantissima nella medicina del lavoro e nella difesa della salute, che era un medico del lavoro, è Laura Conti. Non so quanti di voi l'abbiano mai sentita. Laura Conti, ecco, il 31 marzo è il centenario della nascita di Laura Conti. Ci sarà un intervento specifico da parte del gruppo di Seveso di Lega Ambiente che è dedicato a lei. Laura Conti e Giorgio Nebbia avevano inventato una parola che è importantissima anche se si usa molto poco, per indicare la pretesa degli umani, delle tecnologie, di sostituirsi ai problemi che la natura aveva risolto in altri modi. Questa parola era vicariare. Dicevano che l'uomo voleva vicariare ciò che la natura faceva spontaneamente e naturalmente. Ma questa volontà di vicariare, diciamo, a un certo punto trova dei limiti, perché noi non siamo in grado di vicariare tutto. Anche nel campo della sanità, l'idea che la sanità, la salute, la parte tecnologica possa vicariare tutte quelle assistenze, tutte quelle attenzioni che possiamo dedicare noi, uomini, attraverso le nostre relazioni, è una follia. Io sono, per esempio, molto preoccupato dal fatto che Roberto Cingolani sia il responsabile di questo ministero che si chiama Ministero per la Transizione Ecologica. Io l'ho sentito parlare, Roberto Cingolani. Mi ricordo benissimo che durante un intervento disse che, per esempio, rispetto alla questione dei malati cronici, non ci sarebbe stato nessun problema, perché, lo dico e ve lo ripeto e posso trascrivere quando è stato detto, in ogni caso ci sarà un robot che si occuperà degli anziani. Ecco, io penso che abbia adesso fatto un salto di qualità Roberto Cingolani e tutti quelli che fanno parte di quel pensiero, perché adesso avrà capito che magari il problema sarà quale sarà il tipo di energia che verrà data ai robot. Cioè, prima un tipo di energia, adesso faremo un'energia rinnovabile e quindi il problema si gioca su questo. Questo è il limite del pensiero di questo modello e l'unica possibilità è quella che io ho visto quest'oggi. Moltiplicare le esperienze, parlare, cancellare quelle che i maestri chiamano le parole vuote e prendere invece quelle che si chiamano le parole piene e provare a riempirle, se non lo sono abbastanza. Il concetto della partecipazione che è qualcosa che secondo me Eleonora ha messo in campo, anche se non ha detto partecipazione, però insomma è quello che il termine è di quel genere. Una partecipazione che non deve essere ideologica, deve essere una partecipazione legata al fatto che poi quella struttura sia davvero efficace, efficace in senso medico. Partire dagli ultimi, sapere chi sono i nemici, lo dico anche per il dottor Giustetto che dovrò necessariamente contattare perché in Val di Susa è stato appena creato un gruppo di lavoro per la difesa della salute e dell'ambiente e già con Medicina Democratica, Pronatura, l'Associazione Italiana Esposti a Mianto e due comuni, Salbertran e Bussoleno hanno già aderito. Ci sono dei medici che vorrebbero entrare, il professor Giustetto, credo che dovremmo chiedere all'ordine se è possibile come relazionarci. le persone devono necessariamente prendersi carico di ciò che le istituzioni o le grandi imprese non fanno o ci dobbiamo fidare scusatemi delle valutazioni di impatto ambientale e sanitario che ho fatto il professor Enrico Lapira. Di nuovo, non vado avanti su questi temi. Facciamo attenzione a queste questioni. Allora, sono contentissimo perché mi sembra che quella che era un'ipotesi di lavoro, avrebbe detto Giulio ma che è caro è ipotesi di lavoro che si possa riaprire Maria Delaide. Credo che siamo già oltre perché si sta già discutendo di come potrebbe essere riaperto il Maria Delaide. Allora, concludo contento dell'attenzione agli ultimi e contento e vorrei rilanciare con l'attenzione alle donne perché ho provato un attimino a fare un po' il discorso su chi fosse questa Maria Delaide che era una regina non era certamente comunissima. Siamo oltre i limiti. Ho chiuso, guarda, Maria Delaide è morta a 33 anni, era la moglie di Vittorio Emanuele II, la, come si dice, la rivale, era la bella Rosin. Ecco, si può quasi parlare di femminicidio perché a 33 anni aveva già avuto otto, otto, otto bambini. Ecco, ecco, solo questo. Mi sembra che sia anche la sua figura qualcosa da approfondire. Grazie. Grazie.